In questo video presentiamo l'accensione d'anticipo variabile Pinasco Flytec nella versione per Vespa PX senza avviamento elettrico, quindi tutte le PX anni 70 e 80. Questo prodotto è frutto di innumerevoli ricerche e sviluppi volte a realizzare un prodotto di altissima qualità affidabile e duraturo nel tempo. Offre molteplici vantaggi, l'anticipo variabile offre prestazioni maggiori sia con motore originale che con motore preparato. Il volano Pinasco Flytec è stato realizzato con pesi di varie grammature, nello specifico da 900, 1100, 1400, 1600 grammi. La versione da 1600 grammi è quella che più si presta a motori originali o con preparazioni turistiche ed il minimo rimane regolare come fosse originale. Il volano ha un'apparatia interna in acciaio che protegge i magneti e lo statore in caso di rottura dell'albero motore. La potenza di questa accensione è di 90 Watt. Le zaborre sono ricavate dal pieno e sono perfettamente equilibrate e zincate. Il cono del volano è ricavato anch'esso dal pieno, viene nichelato per resistere agli agenti atmosferici e alla corrosione e mantiene il filetto interno sempre in perfette condizioni. La ventola di raffreddamento in nylon presenta un profilo dell'alette maggiorato per raffreddare maggiormente il gruppo termico anche nelle condizioni più gravose, aumentando il flusso d'aria del 20%. La piastra dello statore è in allumino pressofuso con una scala graduata che permette anche agli appassionati meno esperti una perfetta regolazione dell'accensione. Trovi questo e molti altri articoli Pinasco sul nostro negozio in polidello scooter.com